Eccoci, buongiorno amici del pub, buongiorno a tutti quanti, questo oggi è un puntato un po' particolare per tante ragioni, intanto ultima puntata del Lodeling Caffè, come vi ho detto già settimana scorsa, in realtà nelle prossime settimane, nonostante sarò dall'altra parte del mondo un po' sperduto nella foresta, insomma sarà un po' particolare il mio viaggio, però tenterò di esserci il più possibile, quindi di fare quantomeno un paio di live sul nostro canale YouTube, quindi se non siete iscritti sul canale YouTube mi raccomando iscrivetevi, se volete mettete la campanellina, se no niente, tanto l'algoritmo teoricamente ci dà una mano, quantomeno in questo, Ecco, e quindi questa ultima puntata del Lodeling Caffè, per quanto riguarda questa stagione direi che viviamo assolutamente in bellezza, per così dire, per non usare altre tipologie di termini che potrebbero essere facilmente censurabili, Quest'oggi, effettivamente abbiamo un po' come venerdì scorso, che non ci ha detto bene, i dati di venerdì scorso non ci hanno detto per nulla bene, oggi abbiamo qualche dato in più sul non manifatturiere, sul PMI statunitense, vediamo un pochino come va, tra l'altro oggi approfondiamo anche questo aspetto qui, Quindi seguiamo un po' anche oggi i dati del dati macro, vediamo se questa volta ci riescono a dare una gioia e direi di iniziare, di iniziare fin da subito con quello che è stato il titolo di oggi, non pensavo al titolo migliore, tempesta perfetta, perché ragazzi è stata una follia, veramente una follia, Sono stati, noi in sette giorni, letteralmente in sette giorni abbiamo cambiato completamente sentimenti e attenzione, questo aspetto qui magari nel mercato crypto è una cosa un po' più normale, mettiamola in questo modo qua, Ma ricordiamoci che sul mercato, sui mercati più tradizionali, che sono mossi da grandissime cifre, grandi investitori, investitori molto più consapevoli di quelli che ci sono nel nostro settore, già questo comunque ci fa capire noi in che situazione si trovava, è facile in questi casi qui dire, ce lo si poteva aspettare o altro, sono stronzate poi alla fine, Però ecco, proviamo a unire un po' i puntini, cercare di capire cosa è accaduto, allora intanto parte tutto quanto, tutto quanto inizia una notte buia e tempestosa, no scherzo, la notte buia e tempestosa è stata quella di stanotte, tutto quanto in realtà inizia già a fine del 2023, quando i mercati si posizionano in una direzione netta tra l'altro, senza grossissimi dubbi, su un pivò della Federal Reserve già a marzo, quindi già lì le cose non andavano benissimo, tant'è vero, se vi ricordate, ma tante volte ne ho fatto menzione di questa cosa qui, se vi ricordate, tante volte avevo detto che terro d'occhio, avrei tenuto d'occhio con grande attenzione il Q2 di questo 2024, per quale motivo? Perché nel Q2 si sarebbero allineate diverse situazioni, come per esempio il taglio dei tassi di interesse della Federal Reserve, che sarebbe arrivato, secondo quelle che erano le stime dei mercati, a marzo, a marzo non sono arrivati questi tagli, quindi non è arrivato questo pivò, è stato spostato, procrastinato nel tempo prima giugno, poi a luglio, poi a luglio abbiamo visto che il nostro Jerome Powell ci ha detto, raga fatevi l'estate tranquilli, perché l'economia è strong e resilient e questo cazzo due giorni dopo praticamente è successo il vero e proprio cataclisma, ma vabbè, insomma ci siamo anche abbastanza abituati a sta roba qui perché mi sembra un po' che dicevo l'altro giorno ed effettivamente non è per nulla sbagliata come analogia quando dovevamo avere l'inflazione temporanea, ci sta ragazzi, l'abbiamo detto tante volte, la Federal Reserve e le banche centrali in generale nel loro arco, nel loro arsenale hanno tra le varie possibilità l'utilizzo della comunicazione, una comunicazione che deve essere attenta a determinate dinamiche, fa un po' specie perché comunque è vero che si tratta spesso di entità differenti, distanti tra di loro, però cazzo, cioè prima di andare a prendere una decisione sui tassi di interesse e di dire che l'economia è strong e resilient due giorni prima che escono i dati dell'occupazione, dico un'occhiatina, una sbirciatina, secondo me gliela si può dare, ecco ragazzi è andato in questo modo qua, questo è stato sicuramente il primo momento che ha portato un po' a una rottura, di quello che era il sentiment positivo, ottimista per i prossimi mesi a parte del mercato, che si aspettava, si attendeva un soft landing, poi da lì in realtà è iniziato un po', è stato un po' l'inizio della fine, ecco mettiamole in questo modo qua, tanto oggi oramai siamo catastrofici, tra i messaggi, i commenti che leggo in giro, il twitter neanche l'ha aperto ragazzi che fa venire un'ansia terribile, comunque in linea di massia no, oggi il trend è quello dell'essere catastrofisti. Io faccio una premessa, prima di tutte quante, molto probabilmente tanti di voi, se siete stupiti da questa volatilità, molto probabilmente ci sono due aspetti, uno, questo fa anche parte dei giochi, io spero che non ve la prendiate per quello che vi sto per dire, se siete nuovi in questo mercato o se è la prima volta che vi viene detto, però spero non ve la prendiate sul personale, d'altronde parte dell'investimento è una scoperta di se stessi, noi quando andiamo a investire i nostri soldi, quando ci mettiamo in gioco sui mercati finanziari, stiamo anche mettendo in gioco tutti quelli che sono i nostri bias, le convinzioni che abbiamo noi di noi stessi, la nostra anche capacità, eh che cazzo è un tir è passato qua accanto, comunque scusatevi ragazzi, dicevo la nostra, no, anche la nostra idea di come noi riusciamo a comprendere quello che c'è attorno a noi, a volte non ci riusciamo, a volte ci sfugge qualche cosa e noi continuiamo a dare la colpa al di fuori di noi, mentre molto spesso, se non nel 99,99% dei casi, quando il nostro portafoglio va molto male, la colpa, sì, possiamo darla anche all'esterno, possiamo dire che all'esterno c'è stato qualche cosa, ma se noi stiamo male per questa volatilità, molto probabilmente abbiamo fatto qualcosa di sbagliato noi, c'è qualcosa che non è andata nel miglior modo possibile nella nostra strategia, e non c'è niente di male ragazzi, io credo che ognuno di noi, no, vedo tante persone live, mi fa molto piacere, io in primis, ma credo che ognuno di voi anche, quindi tutti quanti noi abbiamo vissuto questo momento qui, l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle, una, due, tre volte, anche più volte, non importa che sia stato soltanto una volta, giusto, però il discorso è sempre quello, se non si impara da questo tipo di errori, ecco che si ricade costantemente, quindi l'aspetto fondamentale non è non cadere nel tranello dei mercati, non è quello di non lasciarsi trascinare dall'emotività, sono tutti aspetti assolutamente umani, quello che invece è sbagliato, ma per noi in generale, non c'è un'etica nei mercati, attenzione, però l'aspetto che poi è sbagliato è non imparare da questi errori, allora molto probabilmente chi di voi sta soffrendo pesantemente questa volatilità ha fatto due errori, uno, entrare in una fase di euforia, e questo diciamo che non c'è neanche tanto bisogno di andare a fare, no, a sottolineare più di tanto, io immagino che chi di voi è tranquillo, molto probabilmente ha accumulato in un periodo in cui i prezzi erano nettamente inferiori rispetto a questi attuali, poi è chiaro, ragazzi, ci sono tante, io vi faccio l'esempio, oramai è diventato il mio meme personale, quel cazzo di Dimension, oramai è un dollaro, però vabbè, ragazzi, fa parte un po' di questo gioco, è chiaro che se io avessi preso tutto quanto il mio capitale dedicato alle cripte e l'avessi investito in Dimension, molto probabilmente a quest'ora sarei più che incazzato, proprio fuori di testa, ma lì sarebbe stato un mio errore, ecco, questo poi, il discorso di base è sempre molto variegato, ci sono sempre tante sfumature e molto spesso il problema di tanti è che queste sfumature non le vogliono vedere, le rifiutano e vogliono invece rendere più semplici delle cose che sono un po' più complesse di come ce le descriviamo, quindi detto questo qui, io vi direi intanto, quindi un errore di base nell'essere magari entrato in una fase di euforia, certo, ci può stare, effettivamente a marzo, aprile, chi cazzo poteva immaginarsi, no, una situazione come quella attuale che stiamo vivendo, in particolar modo sulle altcoin, perché comunque su bitcoin possiamo dire siamo, sì, siamo in una fase molto critica, però siamo tornati poi sostanzialmente a quello che era la fase di resistenza che abbiamo trovato a febbraio, quindi ecco, diciamo che non è stato poi malissimo, certo, già andiamo su Ethereum, abbiamo praticamente cancellato quelli che sono stati le risalite del 2023, quindi del 2024, quindi sicuramente non fa piacetissimo agli investitori di Ethereum una cosa del genere. Un altro aspetto è questo noto che è sempre messo da parte, non viene mai considerato, ma cazzo dobbiamo considerarlo, a noi fa molto piacere e ci fa anche tanto comodo, tanti che investono nel settore cripto, perché investono nel settore cripto? Per la volatilità, però perché? Perché si aspettano soltanto e questa volatilità vada verso l'alto, e no ragazzi, la volatilità ha due direzioni, o verso l'alto o verso il basso, quindi così come noi accettiamo di fare i 10x con delle stupidaggini che poi sono anche dei progetti fantasma, dobbiamo anche accettare che questi stessi progetti o altri facciano un meno 50% nell'arco di pochissimi giorni, quindi questo è un po' un quadro semplice, brutale per quello che è, perché poi non dà adito, non dà spazio ad altro, però ragazzi, questa è la verità dei fatti, quindi per chi si vuole entrare all'interno di questo settore deve anche considerare queste dinamiche, purtroppo anche per fortuna, perché se non fosse così noi non avremmo neanche tutto l'aspetto piacevole delle gemme che fanno 100x, 50x, eccetera, dice giustamente quando succederà una cosa del genere, vabbè è successo, succederà, continuerà ad accadere, però ecco, io vi faccio un esempio, questo è un mercato molto variegato, ieri pomeriggio ho fatto un 10x con un NFT di merda, quindi rendetevi conto di che cosa stiamo parlando, nel momento in cui c'era l'amoria generale, comunque è un mercato che ha diverse sfumature, è chiaro che bisogna essere lì, bisogna essere sul pezzo, bisogna seguirlo, se no basta semplicemente muoversi con allungare le proprie tempistiche, ecco, e anche abbassare un po' il livello di rischio. Detto questo, ritorniamo un po' a quello che è successo, praticamente, no, Wolf per la psicologia praticamente, perché tutte le puntate le apro e le chiudo con una parte sul mindset, però è fondamentale ragazzi, perché ho visto veramente tanta sofferenza in questi momenti qui e mi fa specie, perché? Perché se c'è tanta sofferenza in questi momenti, dove magari uno potrebbe continuare o costruire una propria strategia di accumulazione, secondo quelle che sono le proprie convinzioni, beh, l'accumulazione può essere anche su uno short, attenzione, però uno potrebbe, in queste fasi qui è quando si costruisce qualche cosa e non si sta a lagnarsi dietro ai persi sul proprio portafoglio, però detto questo, cosa è accaduto? Bitcoin è crollato, siamo svegliati stamattina con sta trambiata in testa, Bitcoin è sotto i 50k, ha recuperato fortunatamente, non tantissimo, però, insomma, qualcosina ha recuperato, i dirum ancora peggio, perché è sceso fino ai 2k, come dicevo prima, ha praticamente cancellato quella che era stata la performance del 2024, e al coin, neanche ne parliamo, ragazzi, proprio non pervenute, anzi che ce ne sono ancora un paio in piedi, quindi già questo ci dice qualche cosa, in generale abbiamo visto più di 800 milioni di dollari di liquidazione, una roba pazzesca, CleanSpark ha perso oltre il 20% nel pre-market, MicroStrategy, Marathon Digital oltre il 16%, Coinbase e Riot hanno perso più del 13%, quindi anche tutti i titoli legati al settore crypto nei mercati tradizionali hanno perso, questo perché ve lo dico, perché risottolino per la quindicesima volta, probabilmente l'ultima settimana, non ha alcun senso che andate a costruire un portafoglio azionario, un portafoglio di finanza tradizionale, con le aziende più simpatiche, che vi sono più simpatiche perché c'è Michael Saylor o comunque legate al settore dove già siete investiti, non ha nessun senso, cioè proprio a livello di strategia di portafoglio è fuori in logica e questo, ahimè, lo vediamo anche da questa tipologia di performance come quella di oggi. Cosa è successo nella notte? Cerchiamo anche questo di capire, cioè che cazzo chi è che una notte di agosto, di una domenica di agosto, trova altruosimente lì e comincia a dampare pesantemente su tutti i mercati. Beh, allora, tutto quanto prende piede dalla mossa della banca centrale del Giappone. Questa parte la vediamo poi ancora più approfonditamente nella sezione di finanza tradizionale. In generale, ragazzi, quello che è successo è che l'indice, il Nikkei 225, no, le 225 aziende più importanti del Giappone ha perso il 12%, che è stato praticamente il peggior tracollo dal 1987. Tutte le borse asiatiche, la maggior parte delle borse asiatiche, tranne stranamente quella della Cina, ma il mercato cinese prende la merda già da prima, quindi c'è peggio di così che poteva fare, si poteva piovere addosso e basta. Pensate che il mercato azionale di Taiwan, è crollato, è stato il crollo peggiore degli ultimi 57 anni, quindi, insomma, la robetta non da poco. Cosa è successo? In due paroline, la banca centrale del Giappone ha deciso di aumentare i tassi di interesse e quindi ridurre gli acquisti di obbligazioni governative. Questo, cosa ha fatto? Ha generato panico tra gli investitori. Per quale motivo? Lo vediamo tra pochissimo. Sicuramente quello che uno dice, cazzo, ma le banche centrali nel 2020 siano tutte allineate in una direzione. Nel 2020, cosa è successo? Jerome Powell non ha invitato all'ultima pizza delle banche centrali, Weda. Cosa è successo? Perché non parlate più tra di voi? Cerchiamo di farli parlare, no? Perché non è possibile che la banca centrale del Giappone si muovi nella direzione, la Fed si muove in un'altra, che vanno a creare questi cataclismi. Perché comunque queste due banche, per quanto il Giappone possa sembrare apparire come un paese irrilevante, ma nello scacchiere macroeconomico, mondiale, globale, ha un'importanza non da poco. Quindi, ragazzi, non è sicuramente stata un'idea felice quella dell'aumento dei tassi, anche se di pochissimo, però consideriamo che la banca centrale del Giappone è sempre stata con tassi proprio sottoterra, e quindi questo anche leggero aumento dei tassi di interesse è andato a sovvertire completamente tutte quelle che erano una serie di dinamiche che si portarono avanti da diversi tempi. Una tra queste, no? Il fatto che lo Yen aveva sempre mostrato, no? Una grande... Cioè, era sempre stato utilizzato per andare, per esempio, a fare il famoso carry trade, però adesso se ne parla tantissimo, c'era il prestito in Yen giapponese, con quello si acquistavano azioni, insomma, si faceva un po' questo carry trade, che ha, giustamente, con lo Yen che è ritornato, aspettate un attimo, che ora lo vediamo, lo vediamo subitissimo, che quota è anche perché, ragazzi, c'è la follia, io a un certo punto, per farvi capire, stamattina a un certo punto ho detto vabbè, sti cazzi, mi fermo qui, cioè, le notizie vie finiscono a mezzogiorno, anche perché, cioè, era un continuo, un continuo. Per farvi capire, lo so della situazione, la pagina del Siemi, è rimasta bloccata per la prima parte di stamattina, sicuramente, poi sono riuscito finalmente a rientrare, c'è la pagina del Siemi, dove ci sono tutte le proiezioni della banca centrale. Ecco, quindi, lo Yen contro il dollaro Yen è passato da 160 a 142, quindi ben sotto, ben al di sotto della soia psicologica, oramai storica, dei 150. Quindi, in questo modo, la banca centrale giapponese è riuscita a ricontrollare un po' quella che era la svalutazione continua dello Yen a cui stavamo assistendo già da tutti i mesi, dai mesi, dall'inizio del 2024 fino ad oggi. In più, Kazu Ueda, che non è un insulto nei confronti della banca centrale giapponese, ma è proprio, il presidente della banca centrale della Bosch, della banca centrale del Giappone, sostiene che se l'economia e i prezzi seguiranno le loro previsioni, ulteriori aumenti dei tassi di interesse potrebbero arrivare, potrebbe essere addirittura all'ordine del giorno, insomma, quello impazzito totalmente, quindi giustamente, se la situazione è infuocata, perché non spruzzettare un po' di benzina qua e là? Poi, insomma, mettiamoci pure la fede della riserva, sicuramente non ha aiutato, ma cerchiamolo, ritorniamo un attimo sul nostro settore, perché anche dalle nostre parti, non è che la situazione, l'aria che tira è positiva, perché è arrivato un nuovo dampatore in città, non so se lo sapete, lo sapete sicuramente, anche perché in questi momenti è quando si sta in maniera da maniaci davanti a Twitter e si va all'inno ad aggiornare ogni due secondi per vedere l'ultima cattiva notizia del momento. Cosa è successo? Jump Trading ha venduto massicce quantità di USTH, USTETH ed ETH, quindi Ethereum, sostanzialmente, si sentiva un po' di puzza nell'aria, Arthur Hayes aveva scritto già un post suggerendo che una grande entità avrebbe liquidato tutte le sue cripto, secondo quello che gli aveva detto il suo cellino dal TradFi, ed effettivamente, ragazzi, è arrivata, è arrivata una parte di questa svendita, una pressione di vendita che ha innescato liquidazioni su larga scala, ad esempio, quattro grandi whale hanno subito liquidazioni per poco meno di 15.000 ETH, che comunque, se pensate che sia stata una giornata di merda per voi, andate a parlare con questi signori perché immagino abbiano le palle un po' più girate rispetto a quelle nostre, ed è stato, no, questo ha creato ovviamente FUD su FUD perché intanto i cazzo sono questi jump trading che chi sono? Ce ne sono spuntati così da nulla arrivano e dump, però no, in realtà era già da tanto tempo che si parlava di questi signori addirittura hanno avuto un problema un'inchiesta con la CFTC quindi potrebbe essere legato a questo il motivo del sell off anche se rimane ad oggi un mistero dall'altra parte tutti quanti cioè la totalità degli attori importanti del settore cripto ha sentito la necessità di dire un po' la sua su quello che stava cadendo è arrivato immediatamente Justin Sun a dire raga tranquilli perché noi qua Tron non usa strategia di trading con leva quindi a noi non ci hanno liquidato quindi siamo tranquilli non siamo lì a farci grossi problemi perché Tron è salvo va bene grazie Justin io sempre apprezzo sempre tantissimo il tuo supporto quindi ragazzi abbiamo visto un mese che ha riscritto completamente il significato di mese di merda perché abbiamo iniziato tutto quanto con gli amabili tedeschi MT Cox che hanno dampato pure gli Stati Uniti c'è stato dampando la qualsiasi però rianiamo comunque sempre a 50k io lo so che ora questo è il momento in cui arrivano le badilate di merda addosso va bene me le accollo tutte quali però ragazzi siamo sempre sui 50k per carità si poteva fare un pochino meglio poteva andare un pochino meglio però consideriamo sempre mettiamo sempre le situazioni all'interno di un contesto il mercato sta apprezzando quasi per certo ora lo vediamo ecco la parte di finanza tradizionale oggi sarà fondamentale ultimamente lo è tantissimo però dicevo la la Trans5 sta già scontando quasi per certo che stiamo vivendo un hard landing siamo entrati in un hard landing che è finito tutto Jerome Powell se ne torna a casa e via così vi dicevo prima ci hanno dampato tutti chiunque avesse grosse quantità di bitcoin ad oggi ha dampato ci manca soltanto che si metta a dampare pure Justin Sun e siamo più o meno a posto e nonostante questo ci troviamo sui 50k io questo lo ricordo sempre poi sicuramente diciamo non cambierà non cambierà tantissimo anche i token tutti i token legati alla DeFi al coin sono scesi tantissimi il calo dell'indice DeFi è sceso del 18% il suo dato di DeBlock ragazzi purtroppo la situazione non è sicuramente delle migliori si farebbe bene ad avere un po' di liquidità era già da tanto tempo che ne parlavamo di questo aspetto sì se magari uno è entrato un po' prima con tutta la liquidità anche lì perché usare tutta la liquidità io non lo so domanda qui non saprò mai rispondere cosa non lo so vabbè ditemi voi come vi state comportando in questo momento come vedete la situazione vediamo se c'è io tra l'altro oggi vorrei provare pure a leggervi nei commenti quindi ecco ce l'ho qua quindi ragazzi lasciate anche qualche commento perché so che questi sono i momenti più importanti dove c'è necessità di confrontarsi oggi siamo in tanti solo per sapere da Wolfo Belloro di che morte dobbiamo morire Alan che in realtà è Daniel che in realtà è Berish no vabbè scherzo ovviamente ma Alan Daniel in realtà ancora la situazione non è chiarissima noi stiamo già dando per morto il mercato e l'economia ma pur respira come dobbiamo dire diciamo che la situazione è ancora un po' particolare ora comunque ci arriviamo intanto io ho preso questo articolo così per cambiare un po' il sentiment per riuscire a portarvi questa impresa di portarvi un po' di buon umore una giornata del genere ho preso questo report questa analisi di Econometrix Econometrix che come sapete l'ho detto tante volte in realtà abbiamo portato portato tante volte questi loro report queste loro analisi loro hanno sempre avuto un bias un po' più negativo su questo aspetto dell'hard landing ha ragione ad oggi bisogna le cose giuste bisogna assolutamente ammettere questo questo aspetto e hanno portato questo questo articolo che io trovo molto interessante perché perché in ogni caso no sia che ci troviamo davanti a uno scenario di soft landing sia che ci troviamo di fronte a un hard landing comunque la sala adesso la venta e una più tardi tra poco lo vedremo siete rotti il cazzo di sentire tra poco lo vedremo però è la la seconda sezione di questo odlin nella parte di transfi dove c'è tutto quindi tra poco lo vedremo però giustamente ragazzi la soluzione è una sola è l'unica direzione per questo tipo di per il nostro sistema per la nostra economia l'aumento della liquidità quindi diciamo che qualsiasi sia la strada che intraprenderemo giustamente Econometrix ci ricorda che quella è l'unica strada anche la Cina finirà ad essere costretta per stimolare la propria economia così come gli Stati Uniti questo cosa può portare chiaramente ad un aumento una crescita della liquidità monetaria globale considerata dando un'occhiata alla tipica M2 la money supply negli Stati Uniti che è cresciuta modestamente bisogna ammettere non è scesa nel frattempo e attenzione non è scesa ma neanche è cresciuta tantissimo è cresciuta di un 58 miliardi di dollari robetta da poco soprattutto considerato quanto è cresciuta la money supply quindi lo stesso identico dato in Cina che sono stati 3.200 insomma 3 trillion yen che sarebbero ragazzi 455 miliardi di dollari già più interessante come aspetto siamo in una fase possiamo dire di attesa cioè a livello macroeconomico ancora bisogna capire in che direzione si andrà quindi comunque già questo è un aspetto interessato un invizio che ci farà capire più o meno come andrà a finire lo sappiamo già ce l'abbiamo spoilerata questa storia che sta accadendo negli ultimi giorni e chiaramente Econometrics ci ricorda qualora ce lo siamo dimenticati tra una candela rossa e l'altra è un posto del cugino Pino che è preso malissimo perché si scende si scende soltanto ci siamo dimenticati forse che la liquidità ha un'ottima influenza su bitcoin io metto tra parentesi in generale sugli asset un po' più rischiosi quindi quando le banche centrali in generale aumentano la liquidità quando la liquidità nel sistema comincia ad arrivare ad affluire sempre più copiosa ecco che questa va a fluire drena sempre di più e va sempre di più verso il sistema finanziario soprattutto quello un po' più rischioso ora loro fanno tutta un tutta un'analisi sulla liquidità per semplificare che altrimenti ragazzi qua ci siamo 40 anni loro dividono la crescita e la liquidità in tre regimi di base bassa media e alta crescita senza andare a specificare esattamente cosa significa ma quanto più in realtà in contesti in cui questa media bassa e alta crescita possono questi regimi possono andarsi a instaurare allora andiamo a vederli uno per uno quando ci sono immaginiamoci per esempio un regime di bassa crescita quale potrebbe essere immaginiamo già un regime di soft lending perché nel soft lending sostanzialmente l'economia di base non va malissimo i tassi di interesse possono essere mantenuti higher for longer come dice il nostro Jay Powell e si sta abbastanza tranquilli non c'è bisogno di andare ad aumentare la liquidità perché poi la si rischia di andare ad aumentare anche l'inflazione e quindi quello è un caso di bassa crescita crescita media diciamo una fase un po' più in intermedia in realtà ad oggi non è del tutto esclusa così come la bassa crescita alta crescita ce ne rendiamo conto immediatamente una fase in cui paradossalmente questo è controintuitivo però una fase in cui la fedele riserve si trova con il culo per terra è un'economia che sta soffrendo tantissimo cosa sono costretti a fare sono costretti a tagliare a panic tagliare i tassi di interesse e quindi il taglio dei tassi di interesse cosa significa significa sempre di più dare respiro quindi immaginatelo come una stretta al collo dell'economia dove pian piano che si vanno a tagliare i tassi di interesse allora pian piano si dà sempre più respiro all'economia quindi quello è un caso in cui c'è un'alta crescita perché poi ci si aspetta anche una fase in cui la banca centrale è quasi costretta a dover immettere nuova liquidità cosa succede? chiaramente ragazzi secondo le analisi di econometrics ricordiamo sempre questa è un'analisi di econometrics i rendimenti sono sempre più alti nella bassa crescita il rendimento medio è del 3% la crescita media nel caso di crescita media invece del 7% e di alta crescita del 14% chiaramente queste sono analisi di econometrics però è interessante questo aspetto qui perché è chiaro che i rendimenti aumentano con il crescere della liquidità questo l'abbiamo ben capito però bisogna capire se questi rendimenti sono più elevati giustificano il rischio aggiuntivo questo è un po' il discorso che facevamo prima cioè se io devo aspettarmi maggiore volatilità verso alto maggiore rendimento è chiaro che devo aumentare un minimo questo rischio vale la pena aumentare questo rischio domanda che molto probabilmente tanti di noi non si sono posti in questo mercato prima di premere il tasto buy ma questa è un'altra questione allora lui econometrics utilizza lo share prezio questo indicatore che sostanzialmente viene utilizzato per le azioni che va a calcolare i rendimenti aggiustati al rischio in questo caso in ciascun regime di crescita e quindi la bassa crescita ha un rapporto rendimento rischio rischio rendimento di 1 crescita media rischio rendimento di 1,6 e alta crescita di 2,4 quindi nonostante la maggiore volatilità i rendimenti incrementali compensano ampiamente il rischio aggiuntivo secondo questa analisi di econometrics cosa? come si traduce tutta questa bellezza statistica che poi vi invito ad andare a vedere perché ho messo anche qui sulla pagina Notion la fonte al report completo quindi ci sono trovate tutto quanto lì anche se credo sia a pagamento tutto in che cosa si traduce? sostanzialmente si traduce nel fatto che se arriva finalmente questa benedetta liquidità ecco che ci si può aspettare dei rendimenti dei ritorni interessanti su bitcoin anche lì ricordiamoci sempre ragazzi non voglio stare lì tutto il tempo ogni volta dire sempre le stesse cose è chiaro che ragazzi queste qua sono delle proiezioni si fanno anche un po' per gioco anche per non stare sempre lì a guardare sempre le stesse cose e a sbatterci i coglioni sempre sulle solite storie però è un aspetto che dobbiamo anche ricordarci dobbiamo ricordarci che in questa situazione ci troviamo perché ci sono degli enormi timori di un hard landing ma Wolf c'è l'Iran che vuole attaccare Islele eccetera eccetera bellissimo bellissimo ragazzi ma d'altronde situazioni ad alto rischio geopolitico ce ne sono ovunque c'è anche Taiwan in Cina che non è da poco anzi secondo me ecco quello è uno di quegli aspetti geopolitici che ha un enorme rischio sull'intero aspetto ambito finanziario quello sì Iran Israele sì per carità se scoppia una bomba fa enormemente paura ai mercati dispiace enormemente perché comunque è veramente schifo questo cazzo di mondo la gente non può stare tranquilla però parliamoci chiaramente ragazzi noi stiamo qua a parlare di investimenti lato investimenti lato mercati finanziari non so che ripercussioni a lungo termine possa avere una cosa del genere è chiaro che se lì ci si aspetta un escalation e se entra la Russia e se entrano anche gli Stati Uniti in questa guerra e poi arriva la Cina vi rendete conto non si fanno gli investimenti in questo modo non si fanno gli investimenti con se succede questo o se succede quell'altro noi ci dobbiamo attenere a quello che sta accadendo attualmente attualmente un dato di fatto è che il mercato si è posizionato definitivamente quantomeno sappiamo definitivamente dei mercati emotivi come funziona però allo stato attuale ci si aspetta un hard lending in una situazione di hard lending è chiaro che come dicevo prima la liquidità è l'unica risposta che i governi le banche centrali hanno a questo enorme dilemma quindi un po' come anche lo stesso Econometrix ce lo ricorda scenari come quello del 2008 del 2020 hanno portato le banche centrali a dover affrontare in un'unica direzione a senso unico la problematica economica come andando inondare di liquidità i mercati e questo è riuscito l'unico modo che le banche centrali conoscono per andare a sovrastare la forza gravitazionale di una recessione che altrimenti non sanno come affrontare non si ha idea di come possa reagire l'attuale sistema economico che si basa sulla liquidità e drogato di liquidità non si sa in che modo possa andare voi vi rendete conto che nessuno dice ma facciamo una prova andiamo a vedere se non gli mettiamo più liquidità che cosa succede e sto cazzo ti spara una vista probabilmente perché la quantità di soldi di posti di lavoro di aziende che chiudono è impressionante in una situazione in uno scenario simile quindi è veramente improbabile che si mantengano questo pugno duro così come è stato in realtà fino ad oggi vediamo i vari scenari come vi dicevo prima quindi uno scenario di crescita veloce che secondo Econometrics si ipotizzano due mesi di crescita bassa quattro di crescita media e poi una parte di crescita ulteriore della liquidità questo cosa significa sostanzialmente il scenario più aggressivo più bullish in assoluto poi c'è quello sostanzialmente di una sorta di mantenimento dove si mantiene una fase di mantenimento l'hire for longer che è un po' innescato dalla possibilità di un soft landing e quindi sostanzialmente ragazzi in generale questo trend quantomeno per la liquidità è estremamente positivo e perché è anche estremamente positivo perché comunque dall'altra parte c'è qualcuno perché dobbiamo ricordarci si è vero stampano come i dannati ma nel momento in cui i governi sono costretti a dover stampare qualcuno qualcuno deve pagare anche il toner io lo pago c'è un power e in realtà io lo paghiamo noi perché perché i stati si vanno a indebitare sempre di più perché il sistema è affamato di liquidità i stati si indebitano e riescono a inundare a rimettere questa liquidità richiesta dagli stati io vi faccio notare vi faccio fare questo giochino non è bellissimo però comunque va fatto per consapevolezza andate su come si chiama sto sito ora mi sfuggio in questo momento vediamo un secondo ah usd btc block lock scusatevi dove sostanzialmente c'è il debito degli stati uniti mettete un bellissimo cronometro e vedete un milione di dollari in debito quanto ci stanno ad arrivare ve lo dico già io faccio un po' di spoiler sono 30 secondi ogni 30 secondi c'è un milione di dollari di debito quindi rendiamoci conto ragazzi questa roba qui è veramente difficile poi da sostenere nel tempo il debito nazionale degli Stati Uniti ha superato i 35 mila miliardi di dollari che è un numero che fa veramente comincia a fare veramente paura una situazione tragica che però può rivelarsi anche favorevole perché no a bitcoin o comunque un sistema alternativo di finanza ricordiamoci stiamo seguendo questa ideologia l'enorme debito globale potrà trasformare bitcoin nella servia di valore attraente in quasi in egual modo a loro questa la prospettiva la tesi portata avanti da The Block in questo articolo dall'altra parte ragazzi il debito sì sicuramente questo debito crescente cattura un po' l'attenzione ma soprattutto quello che fa paura quello che realmente non sappiamo in che modo può andarsi a sviluppare la situazione in che modo può andarsi a sviluppare è il fatto che il rapporto debito-pill quindi c'è già il pille reale degli Stati Uniti è cresciuto del 2,8% quindi da una parte uno dice vabbè alla fine niente male alla fine la gente guadagna ha la possibilità di andare a ripagare un po' questo debito mettiamoli in questo modo qua vediamo sempre i governi gli stati come se fossero delle persone con la loro produzione che in qualche modo c'è la speranza forse che possa andare a superare quelli che sono i loro debiti però il rapporto debito-produzione debito-pill degli Stati Uniti è diminuito dal picco del 132% del 2020 però comunque rimaniamo sempre su un 122% e comunque mi sembrerebbero anche un po' elevato diciamo che non è proprio il massimo e la diciamo che la prospettiva qual è per Bitcoin è assolutamente potrebbe essere assolutamente bullici perché va un po' a proteggere il capitale degli investitori dal cosiddetto debasement la svalutazione monetaria faccio notare anche che su questo aspetto si parla se ne parla tantissimo si dica un sacco di cazzate e a proposito di cazzate non può immancabile ragazzi immancabile il nostro dono al Trump che è arrivato veramente la sparata grossissima dicendo che utilizzerebbe il Bitcoin per estinguere il debito pubblico degli Stati Uniti io ritengo che non ci sia da spiegare perché è una cazzata pazzesca però se avete qualche dubbio scrivete in DM ve lo dico però comunque mi pare evidente che sia una gran cagata quindi meno male ci si è messa la Bank of America che ha detto che secondo loro è più un colpo di scena che una soluzione concreta grazie grazie perché io qualche dubito ce l'avevo però ragazzi rendiamoci conto sempre di questo aspetto qui perché Donald Trump ha una ferocia propagandistica che non è da poco non è assolutamente da poco quindi quando stiamo lì per carità contenti fa piacere che un Donald Trump arrivi anche nelle dirette nel radio interviste eccetera e parla di Bitcoin come soluzione a tutti i mali ma questa non è una pubblicità positiva perché crea più confusione e in realtà neanche conoscenza sullo strumento Bitcoin quindi riferiamoci sempre su queste robe qui andiamo avanti vediamo come le riserve di Bitcoin sono in calo comunque questo aspetto positivo perché le riserve di Bitcoin sui exchange hanno raggiunto qualche giorno fa un minimo storico siamo arrivati a 2,8 milioni di monete quindi questo è un'analisi di criptoquante ed è una tendenza che si protrae dalle 2022 c'è stato un lieve aumento delle riserve all'ultimo mese sugli exchange ma dico i sospettati sono tanti sappiamo MTGOX tedeschi statuniteli chiunque ci ha dampato in faccia i propri Bitcoin quindi non ci sono dubbi che questo sia un dato che è legato a questo terribile luglio che abbiamo vissuto che è terribile bisogna vedere sempre dal punto di vista attenzione perché comunque siamo rimasti più o meno in piedi l'aspetto è positivo per chi fosse nuovo diciamo in questa tipologia di analisi è positivo perché cosa significa meno normalmente quando arrivano i Bitcoin sugli exchange è un segnale che potrebbe arrivare pressione di vendita di lì a poco quindi quando ce ne sono sempre di meno significa che gli holder decidono di detenere i propri Bitcoin nei propri wallet e quindi di non andando avanti vediamo ritorniamo un po' a un discorso che facciamo prima Riot Platform che abbiamo visto ha perso un bel po' di percentuale in generale nel 2024 in particolare negli ultimi giorni ma gli ultimi giorni secondo me sono un aspetto che va un po' fuori dalle statistiche diciamo che in questo articolo di qualche giorno prima che accadesse il fattaccio generale e già Riot Platform non stava mostrando un 2024 eccellente le perdite nette sono salite a 84,4 milioni di dollari rispetto ai 27,4 milioni di dollari dello stesso periodo nello scorso anno è chiaro che l'Halving in qualche modo è andato giù duro i ricavi sono scesi a 70 milioni di dollari dai 76 milioni di dollari dello scorso anno Riot ha prodotto solo 844 bitcoin nel secondo semestre anche questo un calo del 52% rispetto all'anno precedente però nonostante questo stanno lavorando per andare a raddoppiare aumentare incrementare sempre di più il tasso di hash con l'obiettivo di arrivare a fine anno con 36 hash per secondo e in più si sta muovendo Riot per l'acquisizione di Bitfarms con acquistato ulteriori 10 milioni di azioni della società rivale a luglio e quindi ragazzi questo è sempre per dimostrare come effettivamente l'industria va avanti va avanti per carità con diverse difficoltà con tante cose che effettivamente vanno un po' devono risolversi però si va avanti si va avanti non si rimane pietrificati davanti a quelle che sono quella che è la volatilità del mercato e chi sicuramente sta andando avanti se ne frega altamente tutto quello che succede sui mercati chi sono quelli di Polimarket con le loro scommesse perché abbiamo parlato già qualche giorno fa ci aspettavamo da un momento all'altro l'esplosione il superamento del traguardo di un miliardo di volume di trading accumulativo ed effettivamente siamo arrivati a questa a questa soglia complimenti per Polimarket soltanto tra luglio e tra giugno e luglio il volume accumulativo è salito del 58% passando a 663 milioni a un miliardo di volume di trading accumulativo questo ovviamente ragazzi alimentato dalle politiche dalle presidenziali statunitensi che arriveranno a novembre chiaramente non lo vediamo tante volte come spesso vengono fuori anche gli screen che spuntano spuntano spesso su Twitter l'open interest su Polimarket si aggira intorno ai 90 milioni di dollari è possibile che sia sceso di qualcosina chiaramente vista la situazione di mercato però ragazzi comunque è un ambito come dicevo l'altra volta abbastanza interessante e tra l'altro Polimarket bisogna anche ammettere si sta ritagliando sempre più il suo spazzicino quantomeno nel nostro settore come barometro delle opinioni pubbliche quindi neanche tanto male stavamo cercando qualcosina che andasse bene ho detto ragazzi non li posso lasciare sempre con l'ansia la cosa cerchiamo qualcosa che va bene ho trovato un cazzo ho trovato poi Polimarket ho detto vabbè benissimo questo qua secondo me è un ottimo esempio andiamo alla parte 2 della tempesta perfetta che è quello da un'ora che ve la sto chiamando questa parte 2 e allora vediamo un pochino di fare un po' di recap anche per chi si è perso la parte iniziale di questa puntata poi adesso andiamo a vedere una visione di insieme di quello che sta accadendo e anche che cosa possiamo aspettarci attenzione quindi in generale cosa è accaduto settimana scorsa sono arrivati questi pessimi dati da parte del mercato del mondo del lavoro io bevo un goccio d'acqua ragazzi che sento male appena li leggo dicevo il Intel abbiamo visto anche diverse trimestrali che non hanno convinto tantissimo Intel che ha perso il 26% una roba pazzesca per via dei no dopo l'annuncio di tagliare il personale la sospensione dei dividendi anche Amazon Apple cioè ragazzi è successo veramente di tutto e di più qualsiasi delle big tech ha visto un calo importantissimo questo secondo me già di per sé è stato un del rischio importante che ha scelto di operare il mercato e questo lo cominciamo a vedere quindi oggi vediamo qualche indicatore indicatori che segnatevi nella vostra watch list perché possono essere molto importanti da osservare chi segue di voi la finanza tradizionale non c'è nessun mistero li conoscerete benissimo però magari qualcosa potrebbe potrebbe esservi sfuggito vediamo che si comincia a cambiare questa narrativa abbiamo cambiato la narrativa dal soft landing all'hard landing quindi questo atterraggio duro proprio di culo brutto di panza anzi a far male e quindi i mercati stanno cominciando a operare un risk importante immediato e soprattutto hanno panicato non c'è un altro termine per definire quello che è accaduto negli scorsi giorni i mercati sono entrati in panico totale hanno cominciato a fare un risk neanche progressivo quasi immediato lo vediamo per esempio dal rendimento delle treasury americane con il tasso del titolo a due anni che è sceso al 388% e quello a dieci anni al 379% tra l'altro questo è un dato che si va muovendo costantemente io ora vado a vedere un attimo pure i dati che sono scesi ecco vedi per esempio i rendimenti dei titoli di stato a dieci anni sono scesi a 362% ragazzi cosa significa significa che se tanta gente comincia a comprare titoli di stato a dieci anni i rendimenti cominciano ad abbassarsi quando la gente invece comincia a venderli si comincia a muovere da altrove i rendimenti si alzano per rendere più appetibile è un gioco di mercato un gioco che porta le persone a rientrare sulle treasury a dieci anni a due anni quello che è quando cominciano a vendersi tantissimo ora cosa è successo noi abbiamo toccato livelli assurdi ragazzi per farvi capire a ottobre 2023 abbiamo toccato rendimenti per i dieci anni del 5% oggi siamo scesi sotto il 3,7% e qua si continua a scendere ma si continua a scendere in maniera importante e ricordiamoci che non è patatine coin quello che stiamo guardando ma sono i rendimenti ai titoli di stato statunitensi si parla sostanzialmente del mercato più importante in assoluto che esiste io qua perché ah no sono alle 16 cazzo non li vedremo insieme ragazzi niente io ho convinto come al solito che fossero alle 2 e mezza in realtà il PMI dell'ISM non manifatturiero sarà alle 4 quindi lì vedremo un pochino che segnali ci sono ma ricordiamoci anche una cosa questi ahimè sono dati che ancora hanno bisogno di sedimentare pian piano di essere sempre più accettati apprezzati e sempre di più compresi dal mercato questo è l'aspetto importante allora andando avanti innanzi ritorniamo al rendimento decennale degli Stati Uniti perché c'è un aspetto importante interessante questo il buon Vito Lopes lo ha sottolineato perché siamo per la terza volta quest'anno a ridosso di questa soglia psicologica importante che è del 3,79 3,7% al di sotto della quale se ci muoviamo al di sopra se ci si muove verso uno scenario di soft landing chiaramente dove ci stiamo muovendo noi inutile che ve lo chiedo verso l'hard landing quanto meno la prospettiva di una recessione un po' più dura non finisce perché anche il nostro amato indicatore della same rule che è bellissimo che ci porta anche lui un sacco di buon umore arrivando e superando anche di qualche punticino in più lo 0,5 cosa significa lo 0,5 ragazzi significa sostanzialmente che la media di tre mesi della disoccupazione è aumentata almeno di 0,5 punti per cento rispetto al minimo degli ultimi 12 mesi cosa significa in soldoni ragazzi sostanzialmente questo ci riesce a far capire in che modo sta aumentando la disoccupazione perché uno dei dati che si è riscontrato spesso sempre quando si parla di una recessione è la crescita esponenziale veloce immediata della disoccupazione per questo hanno fatto così tanta paura i dati sul mondo del lavoro di qualche giorno fa perché crescendo di tanto la disoccupazione andando sempre più in crisi il mercato del lavoro ahimè gli investitori si attendono un mercato che va diritto verso la recessione quindi questo same rule è stato attivato a causa del tasso di disoccupazione del 4,3% che abbiamo visto ahimè scorsa settimana sempre il buon Vito Lofs dice come secondo alcuni questa crescita del dato della disoccupazione è parzialmente dovuta a un aumento di quasi 250.000 persone in congetto temporaneo conseguenza dell'uragano Beryl quindi l'uragano che è avvenuto nel mese di luglio in qualche modo secondo questa teoria questa visione ottimistica bisogna ammetterlo potrebbe aver falsato un po' questo dato sulla disoccupazione aver distorto un po' i dati occupazionali di luglio quindi aumenterebbe secondo questa prospettiva aumenterebbe la possibilità di rivedere finalmente questo tasso di disoccupazione tornare a quelle che sono le attese del mercato tuttavia tuttavia c'è anche questa analisi di Barons vediamo un attimo se la riesco a trovare ecco secondo intanto diciamo l'ufficio statistico del lavoro il BLS ha chiarito che l'uragano Beryl non ha avuto alcun impatto sui dati nazionali dell'occupazione e sulla disoccupazione per il mese di luglio quindi secondo loro secondo il BLS sono rimaste le risposte sondaggi legate al mensile legate al mondo del lavoro sono rimaste nei range normali quindi non c'è stata alcuna variazione anche Barons abbraccia questa tesi secondo Barons il rallentamento e l'assunzione a luglio non può essere attribuito a questo uragano quindi neanche questa speranza che su una speranza ce l'avevamo sui dati della scorsa settimana neanche questa ha retto proprio una merda totale va benissimo così quindi sono sventite queste speculazioni sul ruolo di questo uragano nei dati sull'occupazione a questo punto si attendono con ansia i dati sull'occupazione statale previsti per il 16 agosto vedremo anche tutti i vari piccoli dati come quello che vi dicevo prima per oggi pomeriggio che ci danno più o meno un minimo di dato di direzione su quello che potrà accadere cosa potrà fare anche la fede riservi ma la domanda che rimane da un milione di sat è sempre quella siamo entrati stiamo entrando siamo entrando non so più parlare in una recessione economica ragazzi purtroppo bisogna dire bisogna ammettere le cose come stanno allora un soft landing in realtà ad oggi non lo si vede sui grafici questo il dato mi sembra abbastanza chiaro in più vediamo tanta paura ora è chiaro quando c'è tanta paura quando c'è incertezza perché comunque noi stiamo basando l'idea che ci sarà una recessione dura sulla base di un dato che ancora oggi si è stata smentita l'idea dell'uragano però non c'è una certezza che vi sia una continuità in questa in questa tendenza al rialzo della disoccupazione però nonostante questo noi abbiamo visto l'indice della volatilità ragazzi una cosa pazzesca io sono sicuro che se vado a vedere anche adesso è continuato a creare assurdo 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 cioè io ve l'ho detto mi sono fermato oggi a mezzogiorno ho detto beh affanculo a mezzogiorno perché stamattina avevo scritto l'articolo per oggi questa piccola retroscena dell'Odrink Caffè stamattina avevo scritto l'articolo per oggi vabbè insomma ci stavo muovendo intorno poco sopra i 20 effettivamente un dato del VIX che non piacevolissimo ho detto vabbè continuiamo a scrivere eccetera eccetera poi ho detto aspetta un attimo perché stavo cercando ora lo vedrete pure perché ve ne parlerò il dato del VIX quindi la volatilità della volatilità e quindi mentre la prova la faccio ma che cazzo è successo mi viene perso il VIX nel frattempo è arrivato a 42 cioè siamo passati a 20 a 42 adesso aprendo il VIX vediamo che siamo attualmente a 62 ragazzi il VIX a 62 è no cioè l'indice della paura l'indice delle bestemmie a Wall Street definiamolo come vogliamo però sostanzialmente il VIX a 62 è veramente impressionante per capirci per capirci una un'ondata uno schizzo del genere del VIX che è passato da praticamente calma piatta di 11-12 un valore di 11-12 a 62 attuali una roba del genere noi non la vedevamo dal 9 marzo del 2020 quando io ho letto qualcuno chiaramente anche lo stesso Luca Luca Boiardi aveva fatto questa comparazione non sbagliatissima è chiaro che nei termini di quello che sta accadendo non è neanche da fare ma è chiaro non è quella l'intenzione la comparazione che si fa con quello che è stato il Covid crash del marzo 2020 ecco come vediamo in realtà anche la paura che c'è sui mercati è molto simile è quella di marzo 2020 stiamo assistendo a una volatilità che è cresciuta in maniera esponenziale e tra l'altro l'aspetto che è molto curioso tra l'altro io su questo lo ammetto non ho non mi sono fatto una mia opinione e non ho una risposta su questo quindi se qualcuno di voi ha anche una sua opinione vuole scrivere o sa per quale motivo sta accadendo sta accadendo questo in realtà andando a dare un'occhiata cazzo l'ho messo questo qua ci ho messo proprio là sotto va bene così e dicevo andando a dare un'occhiata al VVIX che sostanzialmente è l'indice che misura la volatilità prevista del VIX quindi ci dà un po' una cartina al tornasole di quella che potrebbe essere la volatilità attesa nel VIX nei prossimi giorni in realtà sì abbiamo visto una bellissima impennata fino a 160 per poi stabilizzarsi sui 136 considerate erano partiti da 80 quindi se è duplicato in pochi giorni la cosa strana qual è? che il VIX quindi l'indice della paura è cresciuto tantissimo siamo arrivati a 62 come vi dicevo prima dall'altra parte però la volatilità della volatilità il VIX in realtà è rimasto stabile è rimasto a 136 81 forse è un dato che si aggiorna più lentamente non lo so onestamente questa cosa qui devo approfondirla ammetto la mia ignoranza però se avete una risposta ragazzi datamela nei commenti tra l'altro come dicevo sto dando un'occhiata ai vostri ai vostri commenti quindi vi tengo in considerazione in live chiaramente per gli amici che ci ascolteranno su Youtube questo è un messaggio per i ragazzi su Twitter Boniz scrive venduto tutto in perdita per rientrare verso la fine della Burran oggi sono Bullish su McDonald ha acquistato 200.000 share ottimo Boniz benissimo benissimo così tra l'altro vedo che sei qua stai farmando tabby quindi non lo so non lo so io ti vedo io ti vedo Bullish noto un po' di Bullish da parte del Bon Boniz comunque a parte gli scherzi ragazzi ahimè in tanti si stanno comportando in questo modo ma perché è un modo sbagliato di comportarsi perché se vi rendete conto non ci si muove in valia sostanzialmente delle emozioni perché perché ad oggi e questo spero che rimanga ben chiaro poi ci possiamo ritornare ci ritorneremo nelle prossime settimane quando ritornerà l'Odin e ritornerà tutto quanto il nostro palinzesto come sempre però questa cosa deve essere chiara allo stato attuale i mercati quello che stanno apprezzando è una prospettiva cioè i dati non sono ancora non conclamano ancora i dati attuali una recessione parliamoci chiaramente su questa cosa qua quello che stiamo vedendo adesso il VIX a 60 ora per esempio il petrolio i future sul petrolio che sono crollati a 72 dollari il Brent che ha perso quota 78 dollari cosa significa è un calo che riflette ulteriormente questo pessimismo questo sentiment estremamente negativo che si basa però su dei segnali di debolezza che l'economia ancora non ci ha dato cioè noi dobbiamo anche capire questo aspetto qui nell'economia ancora ad oggi ci ha dato sì dei primi segnali sì c'è dato è chiaro che se noi cominciamo a sentire uno sternuto da un'economia che è pressata da tempo con tassi di interesse i più elevati degli ultimi 30 anni con un'inversione della curva dei rendimenti profondissima per tanto tempo con le banche regionali che sono state salvate per la collottola e che ancora ad oggi insomma non si sa bene di che morte moriranno ecco in una situazione del genere è chiaro sentiamo uno sternuto ci si impressiona subito e si va subito a derriscare si va subito a nascondersi in trincea però è anche vero ragazzi che ci sono tanti aspetti e veramente io l'ho scritto poi alla fine di tutto la parte legata alla finanza tradizionale questo è uno di quei momenti in cui mettere insieme unire i puntini forse è il momento più complicato di sempre per mettere insieme i puntini macroeconomici adesso vediamo anche per quale motivo vediamo anche questa incertezza quanto è evidente perché perché se andiamo a vedere il SIEMI che finalmente mi si era aperto poi la seconda parte della mattinata c'è un consenso corale su un taglio dei tassi di 50 punti base a settembre e anche qui ragazzi io sono convinto infatti lo sto andando a cercare che queste queste previsioni stanno stanno variando vediamo se vi si carica se forse si carica non si carica benissimo sta caricando allora è impressionante ragazzi allora è scomparso per il mese di settembre ragazzi cioè io ora poi vi invito ad andare a vedere il video o andare a vedere sulla pagina Notion perché ho fatto lo screen screen di questa mattina non erano screen di 50 anni fa o altro screen di questa mattina che diceva un 5% di possibilità di una riduzione di 25 punti base è quasi la totalità il 94,5% che ritiene possibile un taglio di 50 punti base ne abbiamo parlato già la scorsa puntata ad oggi in questo momento che è scomparsa la possibilità di un taglio da 25 punti base siamo apparentemente le uniche possibilità che ci sono sono un 75 77% di possibilità di 50 punti base di taglio e 75 punti base a un 22% di possibilità cresciuto è comparso dal nulla ragazzi ve lo giuro nell'arco di un paio di orette è comparsa questa cosa tra l'altro non so se sta succedendo però in questo momento qualche cosa in particolare o semplicemente è l'effetto coda che continua ad andare avanti fatemi sapere casomai nei commenti mentre guardate il twitter e mi ascoltate se è successo qualche cosa le proiezioni per la fine del 2024 a questo punto dobbiamo andarle a vedere ecco esatto sono un po' più variegate in realtà non sono rimaste no in realtà sono cambiate sono cambiate un bel po' attenzione perché perché allora va bene allora vanno fino a due orette fa ragazzi mi dispiace però fa parte anche del gioco sta cambiando cambia tutto repentinamente e vi ricordo della tradfire non stiamo parlando del mercato cripto che oramai è riconosciuto è risaputo che è estremamente emozionale ma la tradfire dovrebbe muoversi in maniera un po' più lenta questo cazzo in realtà stanno variando costantemente quindi dicevo fra un paio di ore fa per dicembre 2024 le prospettive erano andavano dai meno 75 basis point ai meno 175 basis point quindi una corsa abbastanza importante in questo caso qui noi siamo andati ad aggiungere come al solito la possibilità di 350 punti base tra i 350 e i 375 punti base e al massimo per dicembre 2024 un taglio minimo di 100 punti base quindi comunque è aumentato è aumentato un pochino ragazzi cioè veramente il mercato in questo momento secondo me sta sta un po' perdendo di lucidità questo mi pare abbastanza chiaro però a me nulla toglie dalla testa l'idea che siano capricci capricci di un bambino che cerca soltanto un'unica cosa che in questo caso è la liquidità io lo vedo in questo modo Jerome Powell ha tolto il giochino della liquidità ai mercati qualche giorno fa quando ha detto che non c'era necessità di un taglio dei tassi e secondo me il mercato in questo momento non sta approfittato di questa finestra di debolezza ha approfittato dei dati negativi sul mondo del lavoro e secondo me sta cominciando a fare un po' la drama queen per vedere se la mamma riesce a metterci una pezza sopra come è avvenuto per il BTFP non so se vi ricordate ragazzi il BTFP riunione di emergenza della federal reserve ragazzi non vi preoccupate abbiamo creato il fondo di emergenza per le banche per le banche statunitensi sicuramente è un aspetto da considerare il fatto che si stia un po' esagerando questa visione pessimistica attenzione non significa che non potrà concretizzarsi ma lo stato attuale con i dati attuali io lo vedo un po' è esagerato perché comunque abbiamo un GDP in forte crescita ma il 2,8% ha stupito un po' tutti quanti nell'ultima lettura la crescita è anche prevista una crescita ulteriore degli utili aziendali per il 2025 questo è un'analisi di Faxet che vi ho linkato qui sulla pagina di Notion e quindi si la Fed magari ha tenuto i tassi troppo alti troppo a lungo però ragazzi ad oggi noi non abbiamo alcun dato che in maniera incontrovertibile va a sostenere quello che è la paura e il timore che si sta vivendo sui mercati in particolar modo e qua mi sento di aggiungerlo sui mercati finanziati tradizionali perché questo 150% sul settimanale del VIX cioè il VIX che è cresciuto in una settimana ed è passato da 23 a 65 anzi non in una settimana cazzo dico ragazzi questo nella giornata di oggi cioè non in una settimana scusate nella settimana che apre il 5 agosto quindi già oggi ha fatto il suo bel 150% quindi questo significa un mercato che sta veramente come dire sottolineando un po' troppo la possibilità di una di una recessione per carità ci sono tanti aspetti e tanti aspetti che fanno che preludono un po' a un momento di difficoltà dell'economia statunitense che sappiamo essere una ragione in più per per dampare asset rischiosi ce l'aspettiamo che gli investitori in una situazione di rischio dell'economia statunitense cominceranno a alleggerire le proprie borse un po' più rischiose ci sono alcuni dati per esempio come quello di Berkshire Hathaway che conoscerete anche questo benissimo che l'azienda del buon Warren Buffett che ha adesso siede su una liquidità da quasi 277 miliardi di dollari che si sposa con questo gioco di attesa che potrebbe fare Buffett in attesa di una svendita massiccia sui mercati azionari non lo so certo sicuramente fa impressione vedere come la Berkshire Hathaway abbia venduto praticamente la metà della sua posizione in Apple questo fa molta impressione però ragazzi non possiamo basarci su quelli che sono gli altri movimenti è chiaro che in questi casi qui fa molto paura muoversi ahimè fa veramente tanta paura però dobbiamo considerare che ci sono tanti aspetti che stanno andando un po' a viziare quelli che sono che è il sentimento attuale tra questi e questo lo stavo quasi per dimenticare per esempio bisogna vedere il modo in cui si stanno muovendo anche le altre banche centrali perché la banca di centrale la banca d'Inghilterra ha già abbassato i tassi per la prima volta in quattro anni lo stesso è avvenuto anche per la BCE lo sappiamo benissimo mi pare che è successo idem anche per il Canada il Brasile la banca del Giappone stronzi hanno deciso di aumentare il tasso di interesse allo 0,25% che è il livello più alto della crisi finanziaria del 2008 belle sempre queste analogie temporali fanno sempre molto piacere e questo a cosa ha portato ha portato anche questo rendetevi conto di quanto è complesso ingarbugliato questo filo che unisce i vari aspetti macroeconomici perché questo aumento dei tassi di interesse da parte della Bosch ha portato a una svendita massiccia di asset rischiosi da parte di investitori anche statunitensi ma come cazzo è possibile una cosa del genere sì perché sostanzialmente c'è sempre stata una forte divergenza tra quelle che erano le politiche monetarie della Fed e della Bank of Japan in particolar modo negli ultimi tempi e questo ha portato una grande debolezza dello yen quindi in tanti cosa andavano a fare sostanzialmente c'è bellissimo questo posto visto proprio prima di entrare in live di Luca Boiardi che vanno a provare lo yen per andare ad acquistare le loro cagate e chiaramente tutto questo costava molto di meno gli investitori se lo yen si apprezza cosa che sappiamo accadere quando le politiche monetarie diventano più restrittive è chiaro che ti va a costare molto di più addirittura in alcuni casi si rischia anche di essere liquidati quindi questo ha portato sui mercati intanto rafforzare lo yen un rimpadro dei capitali quindi questo è l'interesse della Bank of Japan ma anche una vendita massiccia di azioni anche azioni statunitense quindi anche questo ci si è messo in questa meravigliosa tempesta perfetta a cui stiamo assistendo tempesta che mi rendo conto un po' come quelli che si cagano addosso con i vulcani io per esempio qualche giorno fa sono andato sull'Etna bellissimo straordinario però ero con un amico che si cagava addosso io stavo lì a dirgli quanto era bello andare a vedere questa lava che stava cadendo con il terreno che ti vibra sotto i piedi con il calore che era accentuato per dieci volte vicino alla valle del Bove che è dove cade tutta la lava il mio amico era impressionato gli stava avendo un infarto perché giustamente ognuno affronta in modo diverso le varie situazioni è chiaro che avere più consapevolezza per me era l'ennesima volta che andavo a vedere l'Etna utilizzando questa analogia è chiaro che io ero molto più tranquillo chi sta vivendo per la prima volta una situazione del genere mi rendo conto che i pannolini Pampers non bastano per fare la notte quindi ce ne vuole qualcuno in più ragazzi fa parte anche del gioco come dico sempre l'importante in questi casi qui è non farsi prendere dallo sconforto e non stare lì a dire avrei dovuto avrei potuto avrei fatto guarda quello io ho perso i soldi e quello ho fatto 500 mila per eccetera eccetera l'importante in questi casi qui è capire intanto cosa si è sbagliato e soprattutto studiare capire essere curiosi aver voglia di capire intendere come si può migliorare come la prossima volta si può evitare di sbagliare ricadere in questi negli errori in cui si è caduti magari in una situazione in un contesto come quello attuale andando avanti perché perché dobbiamo capire andiamo verso sempre di più verso la chiusura oggi giornata lunga per l'odine però ci sta ci sta perché ultima puntata secondo me ci sta tra l'altro vedendo anche un po' quello che sta succedendo sui mercati viversela anche più tranquillamente ogni tanto quando tutto quanto va e lo vediamo col SIEMI ragazzi che i dati future sui tassi di interesse che vanno come i pazzi che cambiano sembra che non si riesca mai ad inseguire abbastanza quello che sta accadendo la cosa migliore qual è ecco come farò io e vi invito a fare lo stesso vi fermate un secondo facendo una sigaretta ci ferma una sigaretta si rallenta un po' tutto quanto quando tutto va in una direzione di velocità di poca lucidità di eccitazione quasi anche se in senso negativo la cosa più importante è abbassare il proprio stato d'animo abbassare un pochino i propri ritmi e vedere le cose provare a respirare e vedere le cose in un modo in un modo diverso e proviamo a farlo proviamo a farlo nella chiusura di quest'oggi perché dobbiamo cercare di capire in che modo potrà andare cosa potrebbe accadere nelle prossime puntate cosa ci possiamo aspettare allora intanto i rendimenti dei tesori statunitensi sono scesi come ahimè erano scesi soltanto nel 2007 e quindi ragazzi è chiaro che i mercati non possono non aspettarsi temono che possa arrivare una recessione e si stanno muovendo in una direzione come dicevo prima a tirare la gonnellina di mamma fed e chiedere un po' più di liquidità che può arrivare finalmente le preoccupazioni sull'inflazione sono evaporate inflazione inflazione che cosa è si inflazione non ne frega niente a nessuno se vi ricordate ne parlavamo di questa eventualità perché perché è chiaro ragazzi come deve andare avanti come va avanti un'economia che fino ad oggi è stata famelica di liquidità ha avuto soltanto necessità di liquidità per andare avanti non può che mettendo ulteriore liquidità e quindi questo nel lungo termine nel medio lungo termine non accadrà il prossimo anno non accadrà magari nei prossimi cinque anni ma sicuramente accadrà che l'inflazione è arrivata a un certo punto aumenterà dovrà aumentare l'inflazione di default il target per l'inflazione per la federal reserve verrà aumentato anche questo perché non potrà farne a meno e quindi ragazzi piano piano le preoccupazioni dell'inflazione quantomeno su un 3 3,5% 4% se le cose dovessero andare malissimo comincerà ad essere sempre di più la normalità questa è una mia idea ma ne riparleremo più in là secondo me non c'è altra strada ahimè questa è la situazione ed è una situazione estremamente scomoda sconveniente per chi là fuori dalla finestra di casa nostra non ha idea su come investire su come muoversi non parlo soltanto di bitcoin ma proprio in generale non sa come difendere i propri i propri soldi se siete già qui già siete in quella fase in cui avete consapevolezza di quello che sta di quello che sta accadendo è chiaro si fanno gli errori tutto quello che vogliamo però già avere questa consapevolezza è un passo in più rispetto a tante altre persone che là fuori questa consapevolezza non ce l'hanno completamente la consapevolezza è che pian piano l'inflazione andrà avanti pian piano il debasement la svalutazione della moneta andrà ad erodere sempre di più il nostro capitale perché insomma poi diciamo la situazione non so in che modo potrà evolversi a quel punto lì ma sarà un problema dell'Alessio e dei ragazzi del CryptoPub del domani quindi ne riparleremo poi più in là col Van Saks anche loro hanno aumentato le probabilità di recessione del 25% ma dicono ehi amici comunque tranquilli perché in generale l'economia sembra ancora complessivamente in buone condizioni quindi non ci preoccupiamo stiamo relativamente tranquilli perché non c'è grosso non ci sono grossi problemi in realtà i mercati questi problemi li stanno vedendolo e lo vediamo dai diversi indicatori se per esempio andiamo a prendere quelli che sono i consumer stable e i consumi discrezionali quindi due tipi di consumi uno un po' più legato a un periodo un po' più ciclico nelle fasi recessive e l'altro con i consumi discrezionali nelle fasi un po' più di espansione che si muove in maniera più agiata ecco cosa vediamo queste le KLP e KLY che sono questi due indici all'interno dell'indice maggiore dell'S&P 500 quindi consumer stable contro consumi discrezionali vediamo che quando l'indice sale si sta scontando un hard landing perché? perché i consumer stable aumentano contro quelli discrezionali sostanzialmente quando invece scende questo indice ci si aspetta un soft landing in questo momento inutile che ve lo dico sta salendo sta andando costantemente verso l'alto da settimane su questa scia su quest'idea che stiamo per entrare in una fase di possibile recessione lo vediamo anche da un tutt'altro indicatore che è quello del differenziale due anni dieci anni quello il famosissimo inversione curve rendimenti eccetera eccetera che sta tornando sempre di più verso lo zero una buona notizia beh insomma sicuramente una buona notizia dal punto di vista è che ci stiamo avvicinando alla fase di normalità economica e questo è un aspetto che finalmente ragazzi non so quanto ci vorrà prima di arrivarci però ci arriveremo spero non lo so voglio un abbraccio in questi momenti qua comunque a parte di scherzi quando ci si avvicina allo zero più ci si avvicina allo zero più si arriva a questo dato che è questo zero più è facile che si aprono sempre di più le porte a una recessione almeno storicamente è sempre stato così quando il differenziale due anni dieci anni si avvicina allo zero dopo l'inversione della curva dei rendimenti lo zero è il momento in cui normalmente arriva una recessione e ci stiamo avvicinando ovviamente come faccio non dirvelo stiamo avvicinando sempre di più a grossi passi in quella direzione quindi è vero investitori azionari bond traders hanno spesso sbagliato la previsione delle loro mosse delle mosse della federal reserve e in generale su quello che sarebbe stato gli sviluppi a livello macroeconomico molto probabilmente come vi dicevo prima anche secondo questo articolo di Johanser Johanser questo stiamo vivendo probabilmente un caso di eccessiva reazione da parte dei mercati quindi questo è un aspetto da non mettere da parte una reazione eccessiva volta a che cosa ragazzi cerchiamo di capirli volta a spingere la federal reserve a fare un taglio d'emergenza ne abbiamo parlato la scorsa volta sembrava un'idea folle solo qualche giorno fa venerdì abbiamo fatto la puntata oggi già comincia a venire un po' più fuori si comincia a parlare c'è la possibilità di questo taglio di emergenza da parte della federal reserve se non sbaglio tra l'altro oggi ci dovrebbe essere una riunione di emergenza così come ci fu se non sbaglio cosa era il 13 marzo del 2023 quando è stato istituito il BTFP questo a tanti ha ha scaturito subito questa speculazione che possa arrivare un'azione di emergenza da parte della federal reserve azione di emergenza che secondo Bloomberg invece non dovrebbe arrivare anzi sarebbe un vero e proprio sbaglio perché secondo loro la recente volatilità nei mercati finanziari non giustifica in alcun modo un taglio dei tassi di interesse da parte della federal reserve secondo Bloomberg si tratta di una semplice correzione di mercato e non di una crisi economica definiscono questo momento come un momento icaro degli investitori infatti secondo Bloomberg gli investitori sono avventurati troppo con operazioni finanziarie rischioso come il prestito in yen a basso interesse con il cui parlavamo prima l'inseguimento della bolla tecnologica di turno in questo caso l'intelligenza artificiale che ne abbiamo parlato tante volte e in questa casa il risultato di questo inseguimento continuo inseguimento avidità da parte degli investitori statunitensi si sta palesando con quello che loro definiscono appunto il momento icaro però secondo Bloomberg il GDP anche quelle proiezioni del GDP l'abbiamo visto un'altra volta la Fed di Atlanta che si aspetta una crescita poco più del 2% nel terzo trimestre il mercato del lavoro che ancora non mostra una tendenza preoccupante la stagione degli utili aziendali che in fin dei conti non è stata neanche tanto male perché da parte le aspettative enormi e sosse da parte degli investitori in realtà le trimestre non sono andate malissimo e questo ragazzi secondo Bloomberg non porterà non dovrebbe portare a un taglio di tasse di interesse da parte della Fed riserva il rischio qual è? i rischi sono sempre gli stessi il rischio che magari l'economia si riprende ma si arriva ad entrare a ondate inflattive importanti e questo è una bella gatta da pelare per la banca centrale statunitense un altro rischio ben più grave in questo caso stiamo parlando di una gravità comunque elevatissima è quello di una stagflazione quindi una fase di rallentamento effettivo dell'economia statunitense con in concomitanza un'inflazione elevata e la ragazzi anche lì sono grossi cazzi non sarebbe facile affrontare tra l'altro questo è un aspetto che porto in chiusura ma è un po' come dire conflittivo bisogna capire un pochino bene questo questo aspetto qui perché da una parte i tagli di emergenza dei tassi sono rari quindi avvengono solo in casi di crisi economiche veramente gravi conclamate come secondo me non stiamo vivendo in questo momento e quindi attenzione perché la Fed potrebbe approcciarsi in maniera emotional ma non sarebbe una mossa saggia quella della federal in più occhio perché anche il tesoro user il tesoro statunitense starebbe dando una mano ai mercati in generale alla liquidità infatti c'è questo studio molto interessante ve l'ho linkato sempre su Notion uno studio di Hudson Bay Capital che sostiene che l'anno scorso il tesoro degli Stati Uniti ha fornito uno stimolo economico moderando la vendita di titoli di Stato a lunga scadenza sostanzialmente ragazzi cosa è andato ad accadere intanto questa cosa è stata subito affermazione questo studio è stato prontamente smentito dal tesoro degli Stati Uniti immediatamente perché comunque questa politica denominata emissione attivista del tesoro da ora in poi la denominiamo adi così ci leviamo un po' dalle scatole ha avuto effetti significativi importanti sui mercati e sull'economia simili a quelli dei programmi di quantitative easing della Federal Reserve l'ATI sostanzialmente cosa fa permette una strategia del tesoro per manipolare il profilo di scadenza del proprio debito quindi emette più titoli a breve termine e meno a lungo termine questo cosa fa ovviamente va a portare maggiore liquidità all'interno del sistema economico infatti devia la pratica questo approccio devia dalla pratica storica di emissioni irregolari e prevedibili e mira a influenzare i tassi di interesse e attraverso questi anche l'economia infatti l'ATI consideriamo che avrebbe ridotto i rendimenti dei titoli decennali di circa un quarto di punto percentuale nell'ultimo anno e questo come si traduce poi in soldoni si traduce ragazzi in una riduzione di un punto percentuale sul tasso dei fondi federali cioè quando noi parlavamo poco fa del CMI del tasso della riduzione dei tassi di interesse della Fed ok questo stimolo dell'ATI questa politica del tesoro statunitense avrebbe ridotto ha fornito uno stimolo economico che è simile a quello a cui si può assistere con una riduzione di un punto percentuale del tasso sui fondi federali il che è una robetta non da non da poco questo spiega diverse cose intanto la persistenza dell'inflazione ci si chiedeva in caso di quel caso è possibile che la Federal Reserve ha sbattuto la testa ha fatto un quantitative tightening da paura che non veramente forse anche esagerato quante volte ne abbiamo parlato che secondo anche la stampa di settore è stato un po' esagerato però nonostante questo QT in realtà l'inflazione si è mantenuta abbiamo visto anche dei colpi di coda dell'inflazione abbastanza importanti quindi questo potrebbe spiegare questo sito qui per quale motivo perché funziona un po' in un modo simile cioè il quantitative easing compra cioè in un modo simile i risultati sono simili anche se funziona in maniera diversa perché il quantitative easing della banca centrale della Fed in questo caso compra titoli di Stato per aumentare la quantità di denaro in circolazione lo sappiamo benissimo quando ci immaginavamo il buono c'era un Paolo che stampa e in realtà l'abbiamo visto c'è anche una sezione che ho fatto andate a vedere su Notion su come la differenza tra il denaro finanziario e il denaro dell'economia reale quindi qua stiamo semplificando il quantitative easing la Federal Reserve compra titoli di Stato dalle banche le banche cosa fanno cominciano ad allentare le proprie pretese per il prestito di denaro perché è sempre quello il discorso si va a aumentare la possibilità di prestito da parte di persone e aziende e quindi questo aumenta di conseguenza il denaro in circolazione quindi questo è il modo in cui funziona la quantità di easing aiuta a mantenere bassi i tassi di interesse e a sostituire l'economia nasconde ovviamente il rischio associato di eventuali future aumenti di tassi di interesse per via di che cosa il solito discorso inflazione questa politica del ATI cerca di prevenire l'aumento di questo rischio direttamente alla fonte orientando le emissioni di debito pubblico verso titoli a breve termine questo cosa significa si va a ridurre in questo modo il rischio di dover pagare interessi molto alti in futuro e questo è un aspetto sicuramente positivo perché quante volte abbiamo parlato il tesoro fino a prima mi parlavamo abbiamo superato 35 mila miliardi di debito abbiamo gli Stati Uniti hanno una necessità di pagare comunque questi yield questi rendimenti che sono arrivati ad essere veramente altissimi qual è la soluzione? facciamo una cosa io ti do debito a breve termine e tu mi dai questi bei debiti a lungo termine così io mi levo un po' questo pensiero di dover andare a pagare questo rendimento per 10 anni 20 anni 30 anni sostanzialmente questo dall'altra parte cosa va a fare va a portare un'ulteriore iniezione di liquidità nascosta che esce fuori dai radar comuni quando andiamo a vedere il balance sheet e la federal reserve sostanzialmente vediamo che c'è una riduzione poi andiamo a vedere la money supply degli Stati Uniti e vediamo che c'è un minimo aumento quindi come succede questa roba qua lo vediamo subito con questo report ci spiega un po' quali possono essere queste dinamiche lo studio tra l'altro che è redatto dal tizio primo tizio che è passato è redatto da Norielle Rubini che non so se lo conoscete ma è noto per aver previsto la crisi finanziaria globale Stephen Miran che è ex consigliere della politica economica del dipartimento statunitense sotto Trump e loro definiscono dicono che mentre la Fed aumentava i tassi fino al 5,5% quelli attuali poi sostanzialmente queste politiche del tesoro abbassavano effettivamente i rendimenti a lungo termine e andavano poi a immettere anche liquidità non è piaciuta questa cosa a diversi senatori repubblicani che dicono che il tesoro ha deliberatamente aumentato l'emissione di questi tipi di avere termine per dare uno spinto all'economia prima delle elezioni i furbacchioni la Yellen chiaramente ha negato con forza qualsiasi strategia del genere anche con fini politici diversi analisti del mercato obbligazionario ci tengono a sottolineare che in realtà il confronto con il quantitative easing è esagerato e su questo sono d'accordo sicuramente è un supporto un supporto anche importante però confrontarlo con paragonarlo una nazione del genere alla quantitative easing mi sembra un po' esagerativo buttata lì la soluzione quindi sostanzialmente cosa ci possiamo aspettare nel prossimo periodo ma intanto sicuramente questo mantenimento di queste politiche a parte del tesoro non è male ragazzi perché comunque va a mantenere un minimo di liquidità e quindi sì è vero ci si aspettiamo ci si aspetta una crisi si aspetta una recessione e tutto il resto ma se c'è una liquidità minima comunque questa qua da qualche parte si va a posizionare questa liquidità in più dobbiamo considerare che il tesoro prevede un saldo di 850 miliardi a fine settembre e 700 miliardi a fine anno attualmente si trova sui 770 miliardi se non sbaglio però anche questo va in controtendenza con quello che è il Fiscal Responsibility Act che è questo atto che è stato firmato dal tesoro quando è stato aumentato è stato tolto il tetto del debito cosa prevede che prevede che alla prossima discussione sul Fiscal Responsibility Act si vada nel tesoro debba avere sostanzialmente in cassa i stessi fondi che aveva alla prima di queste riunioni stiamo parlando di 25 miliardi di dollari quindi se arriviamo a 850 miliardi significa che il tesoro va a rimettere in un modo o in un altro questa liquidità all'interno del sistema e già questo potrebbe essere un ulteriore gradino un ulteriore scalino su cui possiamo poggiarci quantomeno nelle prossime settimane consideriamo poi per esempio che la Banca Centrale la Federal Reserve pian piano comincia ad allentare la stretta sull'economia con il proprio quantitative tightening che si va abbassando sempre di più e allora in quel caso lì giustamente ci si può aspettare anche questa interazione questo lavoro in tandem da parte del tesoro e della Fed per sostenere l'economia i buyback del tesoro quindi consideriamo un po' di considerazioni di persone su quello che potrà accadere che accadrà nelle prossime settimane intanto inizieranno i buyback del tesoro martedì proprio domani e metteranno nel sistema 30 miliardi di dollari nuovi belli puliti felici felici insomma non fanno mai non fanno mai male il debito negli Stati Uniti si continua ad essere sempre colossale questo lo dobbiamo sempre tenere in considerazione non lo dimentichiamo ragazzi perché ahimè questo è un aspetto che a un certo punto peserà peserà su tutti i mercati finanziari anche perché arriveremo secondo il Congressional Budget Office arriveremo a 56 mila miliardi di dollari entro il 2034 quindi insomma una somma veramente assurda e poi no questo utilizzo di queste politiche comunque è sicuramente un precedente pericoloso perché non aiuta tantissimo per l'inflazione soprattutto a lungo termine non aiuta tantissimo perché va un po' ad aumentare sempre questa dipendenza dalla liquidità per quanto riguarda i mercati finanziari però le future amministrazioni guardano e dicono ma sai che non è malissimo mi trovo un po' male mi trovo messo un po' a pecora per come si suole dire ma potrebbe essere una soluzione niente male in quel caso lì ragazzi purtroppo la stampante riprende avrete notato che il mio il mio nome oggi è stato accompagnato è accompagnato e verrà accompagnato fino a che non non parte il Jerome Powell con il toner da una stampante e il danaro quindi finché non parte il quantitative easing rimarrò in in questo in questo modo anche se ho perso la mia stellina blu ma sti cazzi però ragazzi ve l'ho detto all'inizio di questa puntata è vero la situazione non è bellissima siamo in una situazione molto complessa sotto diversi punti di vista però la strada è solamente una l'unico modo per risolvere i problemi di in questo sistema è quello di stampare nuovo danaro andiamo a chiudere con l'intelligenza artificiale oggi puntata colossale praticamente sembra tipo avatar nove ore di odri in caffè con le trimestrali perché le trimestrali è un po' all'insegna dell'intelligenza artificiale non abbiamo parlato all'ultima puntata però io ci tengo perché in realtà ci mostrano anche lì un sentimento contrastante per quanto riguarda l'intelligenza artificiale facebook ha visto un report trimestrale interessante importante con una crescita dei ricavi del 22% un aumento dell'utile del 73% meta ha investito lo chiamato facebook insomma però ci siamo capiti meta ha investito ha speso miliardi in infrastrutture però ecco in quel caso lì è stato visto dagli investitori come un rischio calcolato perché perché ha investito in infrastrutture e a quanto pare sono ritornati in queste infrastrutture queste spese questo investimento è ritornato nelle entrate pubblicitarie che sono salite a 39 miliardi di dollari quindi è stato molto apprezzato questa trimestrale di meta da parte degli investitori a differenza per esempio con Alphabet che ha visto sia una crescita delle entrate pubblicitarie dell'11% però ha portato tanti dubbi su quelli che erano gli investimenti di Alphabet proprio in intelligenza artificiale ci si chiede in che modo sia stata proficua se è stata proficua questa spesa nell'intelligenza artificiale per quanto riguarda Alphabet idem se andiamo a vedere per esempio i risultati di Microsoft e AMD infatti Microsoft ha deluso in realtà per le vendite di software intelligenza artificiale c'è stata una crescita sì del 19% anno su anno per quanto riguarda il segmento intelligent cloud però ragazzi investitori si aspettavano anche lì ritorni tangibili da tutti quelli che erano stati investimenti in infrastrutture e intelligenza artificiale anche su questo aspetto ragazzi avevo fatto una puntata molto carina l'ho messa in primo piano la trovate sulla pagina Notion dell'Odlin Café dove parlavamo appunto di questo una possibilità dello scoppio di una bolla dell'intelligenza artificiale bolla che secondo me non è mai arrivata al massimo siamo arrivati a una mini bolla su quelle che sono le infrastrutture legate all'intelligenza artificiale quello sì quello possiamo parlarne ma sull'intelligenza artificiale di per sé non ci siamo arrivati perché sostanzialmente ancora le aziende si chiedono intanto su cosa sia giusto investire se effettivamente questo investimento poi ha un suo ritorno e poi in che modo ragazzi in che modo l'intelligenza artificiale può andare a generare questo ritorno e stiamo vivendo proprio questa strana situazione AMD invece visto risultati positivi nel segmento data center con ricavi che hanno superato lì invece le aspettative degli analisti arrivando a 2,8 miliardi di dollari e sono aumentate anche le previsioni di vendita per il 2024 quindi anche lì da un lato c'è una pressione costante sui giganti come Microsoft come Alphabet eccetera per vedere questa conversione degli investimenti in intelligenza artificiale finalmente in profitti concreti dall'altra i produttori di chip come AMD stanno capitalizzando sempre di più questi investimenti in infrastruttura ora è chiaro che è un po' un cane che si morde la coda a un certo punto se non si vede un ritorno vero e proprio e visto che gli investitori spingono in quella direzione lì anche lì ci potrebbe essere una frenata importante prescindendo da recessione non recessione yen dollaro eccetera anche questo è un aspetto che va ad aggiungere un ulteriore strato di complessità ragazzi sicuramente stiamo vivendo un periodo molto complesso sotto diversi punti di vista però come vi ho detto tante volte durante questa puntata che mi scuso se è andata proprio fuori rispetto a quelle che erano le idee di durata è durata tantissima la puntata di oggi però ve l'ho detto tante volte ci stava secondo me era importante fare una puntata concentrandoci su quello che stava accadendo in generale bisogna fare veramente attenzione a questo momento nella misura in cui bisogna capirlo bisogna comprendere la vera curiosità voglia di conoscere capire cosa c'è dietro cosa sta accadendo se noi stiamo qui da mercenari ci può stare siamo qui soltanto per il vil denaro soltanto per fare il 10 per e poi andarci a sputtanare tutto quanto ci va va benissimo ci sta però ci sta anche che in un momento del genere così complesso dove si paga neanche neanche tanto si paga chi ha studiato chi sta studiando chi ha una sua strategia e chi la sta mantenendo in piedi ecco immaginatevi cosa può succedere a chi da mercenario giustamente viene qua prova a fare il suo 100 per e andarsene via è uno di quei momenti in cui invece bisogna abbassare tantissimo i ritmi provare a stimolare la propria curiosità lo studio la voglia di approfondire questo momento e questo secondo me è il momento corretto per farlo vedremo un pochino come andrà nelle prossime settimane io intanto vi saluto vi auguro una buona estate perché vi ricordo che questa è l'ultima puntata per questa stagione vi ricordo che anche se mi troverò nel Borneo proverò a insomma fare qualche 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 live proviamo a vedere insieme un po' come si sta sviluppando come si sta sviluppando la situazione macroeconomica non vi lascio così nel nulla e niente ragazzi vi auguro una buona giornata un buon mese di agosto mi raccomando staccate rilassatevi pensate ad altro e non state tutti il tempo a guardare quello che sta accadendo e il vostro le performance del vostro portafoglio detto questo un abbraccio a prestissimo ciao belli grazie a tutti